Ma, Rossella, allora stasera è stata una serata fantastica. È stata una serata veramente bellissima, perché siete venuti in tantissimi e a noi ci fa molto piacere. Meno male che non dovevi parlare, ma l'emozione di questo locale sicuramente ti ha un attimino emozionata. Eh, perché questo locale è veramente bello. Sì, perché ci siamo trovati benissimo, uno dei locali più belli del nord Italia, che è a Cervignano, il King Mama di Cervignano del Triuli. Stasera siete stati veramente in tanti. Noi ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato al casting e al mio spettacolo, ma ancora alla direzione del locale, che è di del grandissimo Paride. Paride è una persona veramente eccezionale, quindi ringraziamo molto a Paride, a quello stato il King Mama, per questa occasione, per questo casting che abbiamo potuto fare qui a Cervignano. Sarete veramente numerosi nel prossimo film di Rossella Visconti e tutto nasce qui, in questo locale del Big Mama di Cervignano del Triuli. Posso dire che siete venuti in tanti belli carichi e una bella gente, quindi di sicuro ne sceglieremo tantissimi per il prossimo film. Sicuramente. Quindi un grande saluto da Andy Casanova. E un grande saluto dalla vostra stranierissima Rossella Visconti. Ciao, miss. Ciao. Ciao. Ciao.